Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Riccardo e oggi parlerò della Grande Punto Abarth. Questo modello ha riportato il marchio Abarth nel cuore degli appassionati di autosportive compatte, combinando prestazioni eccezionali, design aggressivo e la storia leggendaria del marchio, dello scorpione. Oggi vi racconterò tutto sulla Grande Punto Abarth, dalla sua genesi alle sue caratteristiche tecniche, fino alle versioni speciali e le competizioni. La Grande Punto Abarth nasce nel 2007 quando Fiat decide di rilanciare il marchio Abarth, famoso per la preparazione di vetture sportive, essendo gli anni 50. La Grande Punto, già una vettura di successo nel segmento delle utilitarie, fu scelta come base per questo progetto ambizioso. Il compito era quello di creare una vettura che unisse le caratteristiche di una compatta da tutti i giorni con le prestazioni di una sportiva, il tutto mantenendo un prezzo accessibile. Il ritorno del marchio Abarth ha avuto un grande impiatto, richiamando immediatamente l'attenzione degli appassionati di auto e ad alte prestazioni. Staticamente la Grande Punto Abarth si distingue subito dal modello standard. Le linee aggressive, caratterizzate da paraurti maggiorati, mini gonne, laterali, spoiler posteriore e cerchi in lega di grandi dimensioni, riflettono chiaramente il DNA sportivo della vettura. Il logo dello scorpione domina il frontale e al posteriore a sottolineare l'eredità Abarth. A sottolineare l'eredità Abarth. Anche l'interno è stato arricchito con dettagli sportivi, come sedili aborgenti, con cinture a contrasto, volante sportivo e pedali in alluminio. Ogni elemento di design è studiato per migliorare sia l'estetica sia l'aerodinamica della vettura, assicurando che la Grande Punto Abarth non sia solo bella da vedere ma anche efficace in termini di prestazioni. Passiamo ora a quello che è il vero cuore della Grande Punto Abarth, il motore. Sotto al cofano troviamo un 4 cilindri turbo da 14 litri, nominato T-Jet, capace di erogare 155 CV nella forzione base. La coppia massima è di 230 Nm, disponibile già ai bassi regimi grazie al turbo compressore. Garantendo una spinta decisa sin dalle basi velocità, questo motore permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 in circa 8,2 secondi, con una velocità massima di oltre 200 km l'ora. Per chi cercava ancora più prestazioni, era disponibile il kit XS, che portava la potenza a 180 CV, migliorando ulteriormente l'accelerazione e la velocità massima. Questo kit includeva anche aggiornamenti e sospensioni e freni, rendendo la vettura ancora più agile e reattiva in curva. Un'altra caratteristica interessante era il stemma TTC, Torque, Transfer Control. Un'altra caratteristica interessante, in quanto simulava un differenziale autobloccante, migliorando la trazione in uscita di curva e rendendo la guida più convolgente. La grande punto Abarth è nota anche per la sua eccezionale dinamica di guida. Le sospensioni rigidite, l'assetto ribasato e i freni potenziati contribuiscono a creare una vettura che si comporta in modo eccellente, sia su strada sia in pista. Il telaio è ben bilanciato, permettendo al conducente di affrontare le curve in sicurezza e precisione. La risposta dello sterzo è diretta e comunicativa, un'altra qualità che gli appassionati di guida sportiva hanno apprezzato molto. Inoltre, la modalità sport permette di modificare il comportamento dell'auto, aumentando la risposta del motore e del cambio. rendendo l'esperienza di guida ancora più entusiasmante. Per la versione standard del kit SS ci sono state anche diverse versioni speciali della grande punto Abarth. Tra queste la più nota è probabilmente la grande punto Abarth Supersport, che spinge ancora più in là il concetto di OTH. Con 180 CV di potenza e un peso contenuto, la Supersport è capace di offrire prestazioni notevoli, combinando velocità e precisione, in un pacchetto estremamente accattivante. Un'altra versione interessante è la Scorpione, una serie limitata caratterizzata da una livrea completamente nera e dettagli unici, pensata per i collezionisti e gli appassionati del marchio. Il ritorno del marchio Abarth ha segnato anche il ritorno nelle competizioni. La grande punto Abarth ha partecipato a diverse gare, in particolare nei campionati di rally. Una delle versioni più celebri è la grande punto Abarth S2000, progettata approssimativamente per il rally, con trazioni integrali e un motore aspirato da 200 CV, capace di sviluppare oltre 270 CV. Questa vettura ha avuto notevole successo nelle competizioni, conquistando diversi campionati nazionali ed europei. Il coinvolgimento ha permesso ad Abarth di dimostrare che le sue vetture non erano solo belle da vedere, ma anche capaci di prestazioni elevate. Questa è una cosa sia una cosa sia così per il ritardo. Grazie a tutti. 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 Poi non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanellina per avere aggiornamenti sui prossimi video. Poi da domani iniziamo con un nuovo marchio, ossia l'Alfa Romeo e partiremo dagli albori, ossia dall'Alfa Romeo 24 HP, che è la prima Alfa Romeo mai costruita. Comunque ci vediamo domani con il prossimo video e ciao alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.